Mercoledì 30 ottobre 2024, buongiorno buongiorno a tutti, sono le 9.19 del mattino e anche oggi attorno alle 16 ci aspettiamo l'ultima uscita di Apple per questo mese e probabilmente per quest'anno. E sì, sto parlando ovviamente dei MacBook Pro con chip M4. L'altro ieri, lunedì, abbiamo visto l'iMac, un iMac che è maturato, un iMac che nonostante di fatto la stessa forma, lo stesso modello, lo stesso design, ha guadagnato il nuovo chip, il doppio della memoria RAM, ha conservato lo stesso prezzo e ha portato gli accessori trackpad, mouse e tastiera con porta USB-C. Ieri è stato un giorno glorioso proprio perché il Mac Mini è stato completamente reinventato e io più che lo guardo, più che guardo contenuti, più che lo amo. Ieri Apple ha rilasciato anche uno spot dove il vecchio Mac Mini impersonato in maniera umana presenta il nuovo, è bellissimo, il nuovo Mac Mini credo sia veramente un gioiello, uno di quei prodotti che durerà tantissimo nel tempo e che sarà apprezzato da tutti, sia nella variante base con il chip M4, sia nella variante pompata con l'M4 Pro, che poi di base non si parla più tanto, proprio perché l'M4 portando i 16GB di RAM ovunque e con tutte queste porte, un Mac Mini che ha un jack audio frontale, un Mac Mini che ha due porte USB-C frontali, è un Mac Mini bellissimo. Per carità non mancano le polemiche, il tasto di accensione sotto, che cazzo stavano pensando? È la cosa migliore che potessero fare. Prima di tutto perché si rifà alla vecchia, vecchissima psicologia di Steve Jobs sui Mac, ovvero che il pulsante di accensione è visto un po' come la morte del computer e quindi va nascosto. Tant'è vero, non so se lo sapete, quando Jobs non era in Apple e fondò la Next nel 1985, il tasto di accensione non era nei computer, era nella tastiera. Se ti si rompeva la tastiera non potevi utilizzare più il computer Next, bellissimo. Però insomma, a parte il passato, secondo me il Mac, ma chi cavolo lo spegne, fondamentalmente lo metti in stop, lo metti in ibernazione e festa finita. E poi comunque è sotto e non va, come dicono i grandissimi geni, sollevato questo Mac e acceso, ma il Mac è rialzato perché esattamente hanno preso il concetto del Mac Studio e l'hanno ridotto. Tra l'altro effettivamente è incredibile pensare in come un prodottino del genere, piccolo, compatto, poco più di un Apple TV, che il vecchio Mac Mini al confronto, nonostante fosse già piccolo, sembra enorme, sia potente in questo modo. Per carità è vero, esistono i Nook, i computerini, quelli da parete, però non hanno questa potenza qui, questo è bellissimo. 729 euro è un prezzo che ci sta, 729 euro è un prezzo che prima di tutto secondo me vale, è un prezzo congruo rispetto al prodotto che è, senza ombra di dubbio, ma consideratelo magari fra qualche mese, magari a gennaio, 100 euro in meno, 80 euro in meno su Amazon, è un prodotto da prendere al volo. Il Mac Mini, senza ombra di dubbio, qualsiasi modello, con il passaggio ad Apple Silicon, è rinato completamente. E anche la variante con l'M4 Pro, che parte da 1629-1679, è senza dubbio una workstation incredibile, nella maniera più assoluta. E non voglio pensare cosa diventerà il Mac Studio, quando in primavera anche lui passerà dall'architettura M2, Max e Ultra, all'M4 Max e Ultra. Veramente da mettersi le mani nei capelli. Diciamo che il Mac Studio è un po' il mostrare i muscoli per una nicchia, il Mac Mini, che è diventato un Mac Studio Mini, è veramente per tutti, nella maniera più assoluta. E un'altra cosa che voglio dire, mi sembra che con la generazione M4, ogni Mac, tra virgolette, torni ad avere senso. Nel senso che l'iMac M1 è stato sicuramente uno spartiacque, la variante M3 dell'anno scorso, con gli accessori Lightning, e l'M3 di per sé, sempre con 8GB, non è stato un granché conveniente. Questo, insomma, comprare oggi un iMac, seppur con dei limiti, un display da 23 pollici e mezzo, 24 arrotondato, magari non è proprio per tutti, però tendenzialmente sono prodotti, mi sembrano più longevi. Finalmente siamo davanti ad una generazione di computer che non guarda tanto al ribasso, ma guarda un po' effettivamente al mondo che è. Poi lo so, tantissima gente sicuramente qui sotto mi scriverà, ma partono da 256GB di spazio e vergognoso. Avete ragione. Nel Mac Mini, secondo me, no. Dal momento che ha 5 porte, il Mac Mini è fatto veramente che se hai bisogno, ti prendi un hard disk esterno a 100€ da 1TB e festa finita. L'iMac con il design pulito, sì, mi sarebbe piaciuto farlo partire da 512, però tant'è. Dicevo, stasera arriveranno i MacBook Pro e cosa c'è da aspettarsi? C'è da aspettarsi la variante base da 14 pollici con il chip M4, quindi M4, 16GB di RAM, 512GB di spazio, che tendenzialmente sarà il MacBook Pro attorno ai 2.000€, 100€ più, 100€ meno, che andrà di fatto a soppiantare il modello base con il chip M3. M4 Pro, che è stato presentato ieri, ed M4 Max. E perché diciamo questo? Perché nel sito Apple, con un indirizzo URL particolare, c'è già il logo dell'M4 Max, ma insomma tendenzialmente non è un segreto. Sappiamo che i MacBook Pro sono disponibili in queste due varianti, e quindi avremo oggi l'introduzione dell'ultimo membro pop della famiglia Apple Silicon, perché lo sapete, vi ripeto, l'ultra è sul Mac Studio, è sul Mac Pro e non sono prodotti di massa, ovviamente. Morale della favola, a partire da stasera la line-up dei Mac sarà Mac Mini M4 ed M4 Pro, iMac M4, MacBook Pro M4, M4 Pro ed M4 Max, MacBook Air M3, Mac Studio e Mac Pro con M2 Ultra e Max. Cosa ne penso? Penso che sia una line-up fatta benissimo, con l'unica nota, tra virgolette, negativa, è che il Mac più popolare di tutti, quello che da solo all'interno della famiglia rappresenta oltre il 30% delle vendite, ovvero il MacBook Air, rimane di fatto indietro di un anno. Perché? Perché tendenzialmente, anche se l'M3 continua ad andare benissimo, è innegabile che il prodotto più popolare sia rimasto ad 8 GB di RAM, come modello base e che a fronte di un più di mezza line-up completamente rivista non sia più conveniente. Quindi la classica domanda, quale Mac mi conviene acquistare? Il Mac Mini. Ragazzi, se voi volete un Mac moderno, volete un Mac espandibile, volete un Mac piccolo, volete un Mac veloce, volete un Mac compatibile con tutto, il Mac Mini M4 base da 7,29 è l'affare della vita. Ci collegate una tastiera o mouse di qualsiasi marca, Bluetooth, fregatevene di qualsiasi commento, ci collegate un monitor anche 1080, anche un 2K, un 144p, e voi siete a posto per 6, 7, 8 anni, nella maniera più assoluta, ovviamente legato al mondo del fisso. Se invece volete un portatile, purtroppo si va incontro a questa condizione, ovvero si va incontro al fatto che i MacBook Pro che presenteranno stasera, dal mio punto di vista, esattamente allo stesso prezzo, con la stessa estetica, saranno convenienti, ma indubbiamente su un'altra fascia di prezzo, altrimenti nel mondo dello street price un MacBook Air M3 al giusto prezzo rimane conveniente, sapendo che ad aprile arriverà il modello M4. Perché tanta gente mi sta scrivendo in queste ore e mi dice ma io ho comprato un Mac M3 due settimane fa, 20 giorni fa, non è possibile. Allora, di base l'utenza ha sempre ragione e avete ragione, ma che sarebbero arrivati i chip M4 in questo mese, in questa parte dell'anno, lo sappiamo dall'anno scorso. Quindi se voi vi siete decisi alla fine ad acquistare un Mac e lo avete acquistato col chip M3, è un prodotto bellissimo che vi va avanti tantissimo, ma è una lamentela, dal mio punto di vista, un po' sterile. Morale della favola, noi ci vediamo anche stasera con un video al volo, dove vedremo effettivamente se ci saranno delle novità, delle grosse sorprese su questi nuovi MacBook Pro, ma tendenzialmente, vi ripeto, no. M4 16GB, M4 Pro ed M4 Max. Vedremo la tecnologia applicata sul Max, se sarà possibile unirli, quindi creando poi questo M4 Ultra, e se a sua volta i futuri Ultra avranno un bandwitch in più per fare questo famigerato M4 Extreme, un altro membro, non si sa per cosa, perché poi la potenza che abbiamo è talmente incredibile che la metà basterebbe. E sicuramente qui c'è qualcuno che fa l'illustratore 3D nello spazio a testa in giù che mi dice ma a me invece serve più potenza! Eh ragazzi, costruiremo uno shuttle apposta per te. Ditemi la vostra, ci vediamo oggi, ciao!